Allora ragazze e ragazzi, eccoci qua su slide 2, continuiamo dove ce l'hanno lasciati, stiamo raccogliendo altre parti di clockwork, io ho trovato l'ultima bottiglia, quindi possiamo aprire la cassaforte, ora però, la cassaforte è di qua e la missione è anche la missione è di qua, aspetta, entrare, apriamo prima la cassaforte, ma qua ci sono sempre loro, ma qua mi conviene menare un po' le mani, ok, 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 manca lui, ok, a posto pensavo 1, 2, 3 Carillon? Aspetta, tira i nemici, poi li addormenta, che sonno, ok, otteniamo, avevo anche, vero, la bomba in racconto, vabbè, ok, qua. Sly, cavallo di ferro 2 sta procedendo troppo rapido Potresti non avere il tempo di saltare Rilassati Bentley Ci sono tanti sistemi per salire sul vagone di servizio Ok Per esempio Così Ok L'altro polmone di Clubwork dovrebbe essere agganciato alla caldaia della locomotiva Devi raggiungerlo e prenderlo Veniamo alla nuova mossa Veniamo Ah ma no Ah ok non si è spostato però si è addormentato Ok Ah c'era il fettore non li avevo visti Aia Aia A posto a posto Avresti dovuto vedere quanti lanciamissili erano montati sui vagoni del treno Non esito a dire che per neutralizzare le difese ho dovuto fare ricorso a una buona dose di astuzia Si Aspetta Ok E cavolo dai addormentatevi Aspetta Ok Ah si 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 è andato via Vabbè se no gli miniamo e basta Ecco Ecco Beh direi eh Caricavo intorno a utile Eh si Non ha Ah l'altro non lo prende Vabbè ce ne andiamo Saltiamo Attenzione cavallo di ferro In caso non lo sappiate Un fortunato mascalzone è riuscito a fuggire con il polmone di clockwork Rubato a cavallo di ferro Tutte le guardie e servizio sono state punite in base al codice del taglio Evitate che capiti anche Ultimamente avete lavorato molto bene E non vorrei dovervi eliminare periguità E tutto Tenete affilate le asci Ok Ma in realtà vedo che nessuno di loro Cioè si sposta Quando entrano nel raggio d'azione Si addormentano Andiamo Ok Tutte e tre Vai ho preso Fantastico Stiamo recuperando parti di clockwork a tutto spiano Ok ragazzi ascoltate E' il momento di rompere in cavallo di ferro tre per prendere lo stomaco di clockwork Il treno è troppo veloce per saltarci sopra quando passa dalla città Così dovremo raggiungerlo usando il carrello procurato da marre Quando saremo in posizione Sly salterà a bordo e raggiungerà la locomotiva Mentre attraversa il treno io gli fornerò supporto aereo con elicottero radiocomandato Sarà una vera e propria rapina da manuale Se faremo tutto giusto Non ci saranno contrattempi Eh ma c'è sempre il contrattempo Allora io ho della roba Beh alla fine i tesori non li ho presi No Infatti vabbè quando ci arrivo ci arrivo Quindi chi parte? Sly? No Ciuf ciuf Operazione ciuf ciuf Marry Si tanto qua ho preso tutto A bordo ragazzi Dobbiamo prendere un treno Perfetto Bel lavoro Marry Si Certo La forza di Super Marry non ha limiti Tocca a te Sly Sali sul treno e ruba lo stomaco di Clockwork John Bison è un tipo strano Quando la banda clon si è divisa le parti di Clockwork Lui ha scelto lo stomaco e i polmoni A rabbrividire Rabbrividisci dopo Quando non starai correndo a rotto di collo su un vecchio carrello Si hai ragione E' ora di assaltare il treno Ok Direi che il carrion si è rivelato Vabbè qua posso anche andare su di qua Guarda Eh Ma comunque il carrion si è rivelato veramente efficace Ecco Ecco Buonanotte Qua In effetti sembrava Un po' impossibile passare Vediamo se c'è il Zecco Si C'è Jean Bison Non passerà nessuno Lo stomaco di Clockwork E' al sicuro come un pupazzo di neve in inferno Vorrei proprio incontrare quel verme Che ha derubato i miei cavalli di ferro Fert Ci mi prudono le mani Al pensiero di come lo farai a pazzi Lo ammazzo come un turdo Altro che storie Siamo passati da fuori Ehi Ehi Cooper Sapevo che ti avrei trovato qui Non sai proprio rinunciare alle parti di Clockwork, vero? Oh E' solo per incontrare signore Stimolante Se cerchi qualcosa di Stimolante Perché non sali sul tetto del treno? Vedrai come ti batterà forte il cuore E forse ti mostrerò il mio nuovo veicolo No, grazie Nila Ho già visto abbastanza Che c'è, Fifone? Hai paura di affrontarmi? Devi chiamare in aiuto i tuoi amichetti? Venite, amichetti Nila mi ha bloccato Mi serve supporto aereo Ho già fatto decollare l'elicottero radiocomandato La prenderà di sorpresa Vieni Cooper Giochiamo! Ma cosa diavolo? Va bene, va bene Amichetto radiocomandato Vieni qui Che esiste Boss Praticamente Iniezione Angoscia Iniezione alle bombe Oh no Alla fine Alla fine va giù bene Solo che Qui Mi ha chiuso Missili Missili Attenzione È un altro colpo E siamo morti Eh no Eh Perché poi mi chiude Porca vacca Aspetta Devo trovare Allora aspetta All'inizio Sgancio a bombe Ah no Cambiato Non mi devo far prendere all'inizio Che fa cose più semplici da schivare A parte questo Ok Questo porto Devo stare qua Aia Attenzione Missili Ok Ok Non ho preso Attenzione Ok No Ok 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 Qua sto in mezzo Ok Dai dai Ok Ok Niente male come volo Amichetto Se lo dici tu Fifone Ok Ok Raggiungi in fretta Lo stomaco di Clockwer Il carrello sta iniziando a cedere Ah ok Non m'ha sentito Qua Carrion Ok Ok Proprio Ok ok aspetta ok no, uno mi ha visto vai ok non avrei mai creduto di vedere uno stomaco trasformato in uno strumento del male sembra che zombie zon si sia fatto furbo e abbia imbullonato lo stomaco per portarlo via dovremo rompere il blocco motore si, è esattamente ciò che faremo per staccarlo basterà infilare una bomba nel fumaiolo prima però dovrai metterti al riparo calmati amico questa parte di clockwork è mia saranno tutte mie ancora però sarà più o più arrita di prima è andata sotto vai adesso taglia ok attenzione i missili va ancora giù sto lanciando bomba in testa oh no oh ai 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 maledetti ai avreo planini dai dai manca poco non mi fermi non mi fermete nella banda di cooper né l'interpol nessuno stai lontano stai lontano il botto sarà forte ah è andato proprio Sly Sly stai bene? ho in mano uno stomaco piuttosto contrariato ma per il resto sto benissimo io e la banda avevamo compiuto un'impresa impossibile assaltare tutti i cavalli di ferro di John Bison come bottino avevamo tre dico tre parti di clockwork e in più avevamo interrotto la distribuzione di spezie in tutto il nord america ovviamente eravamo piuttosto soddisfatti degli stessi non posso dire lo stesso per Carmelita che ha dovuto fuggire ancora una volta dalla polizia all'inizio l'ho trovato divertente poi ha iniziato a farmi pena voglio dire cosa succederebbe se al posto di Carmelita ci fosse qualcun altro non voglio essere inseguito da un altro poliziotto con lei mi diverto moltissimo prima o poi dovrò trovare un modo per dimostrare la sua innocenza senza costituirmi naturalmente ok episodio 6 a posto io controllo magari mi scordo episodio 7 minaccia del nord la situazione in Canada era piuttosto agitata si erano verificati vari episodi di violenza e l'aurora boreale beh non funzionava più una sera era più brillante che mai la sera dopo spenta nella baia di Nanavut aveva intercettato una conversazione fra Jean Bison e il suo misterioso socio arpeggio c'erano loro due dietro alla vicenda era stato facile scoprire la fonte del disturbo seguendo la luce verso nord eravamo arrivati a un immenso deposito di legnale l'enorme numero di alberi abbattuti era un indizio della presenza di Jean Bison che possedeva gli artigli di clockwork il Tivius Raconus spiegava che erano capaci di perforare l'acciaio e dunque con in mano simili strumenti un taglialegna esperto come Bison poteva abbattere in poche ore un'intera foresta dovevamo prenderli sia per chiudere la questione clockwork sia per salvare l'ambiente dalla bizzarra idea di progresso di Bison non volevamo che al posto della foresta spuntasse un nuovo centro commerciale quindi lui quattro parti si è preso alla fine ok controllo come sempre ci saranno cose costosissime 1700 bomba riducente fare impicciolire i nemici nella zona riflessi da Dado all'interno scopo del tempo no ma all'interno silenzioso mi interessa tra questi poi il resto terrorizza i nemici ruggito culturale vabbè ok ricapitoliamo le informazioni 1 il dirigibile di arpeggio deve recarsi da Jean Bison per prendere una batteria 2 l'unico modo per riuscire a rubare il cervello di clockwork è scoprire come imbarcarsi sul suo dirigibile prima però dobbiamo rubare a Jean Bison gli artigli di clockwork abbiamo poco tempo e molte cose da fare giusto giusto ma andiamo con ordine il deposito di legname non figura sulle mie mappe dovresti fare un giro nella zona e scattare delle foto le userò per orientare i sensori nessun problema alle foto ci penso io prevedendo di dover lavorare in un clima gelido mi sono preso la libertà di modificare la tua canna adesso si può scomporre in due metà più piccole molto utili per scalare il ghiaccio prova a salire sulla cima di quel lastrone salta e premi il tasto cerchio per piantarla abbiamo il bastone modificato ok ecco sono lieto di vedere che la nuova canna si comporta così bene sul campo adesso esplora la zona ho bisogno di dati aspetta vedo già aia che devo fotografare devo andare c'è un altro orso no qua nulla va bene qua sento qua corrono tutti lì c'è una bottiglia no sono caduto aspetta ah ah c'è l'orso che sta menando tutti no ce l'ha con me ce l'ha con me no scusi dei ma mi lascia stare vai 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 orso pensaci tu ecco oh questo non le morde oh dicevamo dove è l'orso qua aspetta la zona è in mano agli orsi interessante sta forse emettendo un lieve segnale radio poi casa di Jean Bison aspetta qua c'è altro mi trovo sempre davanti a me prendo un po' di vita ok madonna oh l'orso vai ecco grazie faccio i fatti i miei i miei sensori rilevano un collegamento wifi con quella barca deve essere guidata via computer infatti lì c'è un computerino oppla ok ah ah poi devo fare una foto là ok qua c'è un'altra madonna ah ah ok ok ah è questa la casa di Jean Bison aspetta oh ehi aia 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 aspetta ok c'è anche una bottiglia no così così Quelle seghe mi sembrano molto vecchie Credo che l'accampamento esista da un bel po' Casa di Jean Bison Là Che se prima No Eh Aspetta Non ci arrivi più Prima ci sei arrivato Qui niente Ok No Aspetta Ok 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 Ottimo Già dieci L'ho visto all'ultimo Ah ecco Quella lì La casa di Jean Bison L'antro della bestia La tana del male L'epicentro della distruzione ecologica Ok Dovrebbe andare bene Ora passiamo alle cose importanti Raggiungi il faro E trova un modo per entrare di nascosto Aspetta Aspetta Ok Il faro là Lì ce n'è un'altra Non lo prendo eh Aspetta Aspetta Vai vai Dormite Fate un pisolino L'acqua C'è una bottiglia L'ho vista Però non c'è nulla No Dove Qua si Ok Ok Il faro è lì Ok Qua c'è qualche altra bottiglia Già che sono qua Oh qua si può salire Sto passando Così Oh Ok Allora È andato diretto Qua c'è anche Qua c'è anche una Tesoro bomba Aspetta Dov'è il rifugio? È il rifugio là Ma io Mi ero incastrato Mi sa Ma io devo andare Qua Quì Ah ok Il solito punto Dove far foto Caricabatterie Ecco il caricabatterie Ma dov'è la batteria Che arpeggio sta venendo a prendere? È veloce Aspetta Aspetta ancora un po' No Filatrice Porta frontale Ah con la sedia L'ha chiusa Eh Che ci siamo Ehi Sly Ascolta Sta borbottando fra sé Va avanti Jean Lo sai Servono nuovi concorrenti Per i giochi del taglialegna Ma come fare Per attirarli Trovato Metterò in paglio Gli artigli di clockwork Così arriveranno Nuovi concorrenti Ma che vuoi prendere Lo sai Che vincerai tu Come tutti gli anni Ah 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 È bello Essere forti come me E come Se lo vado Torna al rifugio Dobbiamo parlare Di questi giochi Del taglialegna Allora Jean Bison Ha lanciato Senza volere Il guanto di sfida Gli artigli di clockwork Sono il premio Per la vittoria Ai giochi Del taglialegna Saremmo pazzi A non partecipare Per fortuna Una valanga Conservato in una parete Di ghiaccio Qui vicino Una guida Del taglialegna Sly Devi recuperarla Sono certo Che si rivelerà Preziosa Poi Sappiamo Che il dirigibile Di arpeggio Sta arrivando Per prelevare Una batteria Per salire A bordo Di nascosto Ricorrerei Al trucco Del cavallo Di troia Ossia Userei La batteria Come nascondiglio Purtroppo Dove sia Resta ancora Un mistero Ci servono Altre informazioni Ecco perché Voi due Lavorerete insieme Per infiltrarvi Nel club segreto Di combattimento Fra modellini Le guardie Che l'hanno creato Lavorano al faro Se vincerete Di sicuro Parleranno Benché abbia Una mentalità antiquata Jean Bison Non è uno stupido Per tenerlo sotto controllo Dovremo spiare La sua casa Ruberemo I localizzatori Degli orsi locali E li useremo Per creare Sensori radio Abbiamo molto da fare E il dirigibile Sta arrivando Mettiamoci al lavoro Allora Aspettate che vendo Come sempre Ecco Cosina Andiamo Che partiamo Club di combattimento Deviazione Del laser Le radiospie Degli orsi Ma facciamo Club di combattimento Aspetta Ah va C'è anche Oh Ecco E' Lì in alto Aspetta Com'è che era Ecco là Si dice in giro Che alcune guardie Frequentino Un club di combattimento Fra modellini In quella baracca Fantastico Fantastico Non vado in un club Del genere Da quando abbiamo Fatto il colpo A Istanbul E' stato Straordinario Ma Da zitto Ciao Ciao Aspetta Ecco Siamo arrivato Qua Quelle guardie Non ti lasceranno Mai entrare Nel club Senza un travestimento Quella vecchia Testa di alce Dovrebbe andare bene Però Non c'è Alcun modo Di salire Lassù Nasconditi In questo barile Mentre mando Sly A rubare La testa Ok No Ma ci sta Sly Se riesci a prendere La testa d'alce Senza farti scoprire Marry Potrà entrare Nel club di combattimento Fra modellini Senza suscitare Alcun sospetto Beh insomma Vabbè Però ci fa qua Una testa d'alce Non si sa Aspetta Come posso No Beh c'è un percorso Prestabilito Aspetta Aspetta Ok No non vedo Iniziamo al riflettore Allora lì È pieno di bottiglie Ok Ok Qui Attenzione No Aspetta Ah proprio ci posso Camminare Ok Ok Il percorso Pieno di lame Questo dorme Buonanotte No dove vai Qua Siamo arrivati Ma qui Io faccio così E buonanotte Ecco Attento Attento Ehi amici Pensate di poter battere Super mar Super alce Ne facciamo una scommessa Ci sto Non ho molti soldi da puntare Ma non perderò di sicuro Contro un novellino come te Eh non si vede la differenza Ovviamente Il modellino radiocomandato Da combattimento Non è facile da controllare Manovralo con la levetta analogica Sinistra E nieni premuto Il tasto X Per accelerare Dopo che hai raccolto Le munizioni Premi il tasto quadrato Per sparare Attento Puoi orientare La torretta Solo da fermo Ok Quindi Prendo le munizioni A me era quadrato Ok Vai A poi Aspetta No 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 Preso Ok Hai vinto Ma io non ho soldi Possiamo trovare un accordo Dipende Dipende da cosa Dal fatto che tu sappia Dove si trova la batteria Aurora Boreale Oh beh Penso di dovertelo Ma Stato facile Che guardia Ok Questo fatto Quindi ora dobbiamo Cambiare Eh Sento qua Ma Andiamo Sì Ci sono arrivato Opla Ok Deviazione Dell'ase Andiamo Oh Ok No Attenzione C'era con me Ok Qua dove posso salire Aspetta Ok No Ok No Cosa fai Aspetta Quanti Ok Ok Sly Ho appena scoperto Una cosa Che sembrerebbe Un'antica guida Del taglialegna Penso che potrebbe Tornarci utile Per i giochi Purtroppo È congelata In una parete Di ghiaccio Come facciamo A prenderla Aspettiamo Il riscaldamento Globale Quei laser Industriale Serve per tagliare I tronchi Pietrificati Se mi aiuti A farlo passare Per quella Finestra In quel caso Potrò sfruttare La sua energia Per sciogliere Il ghiaccio E prendere La guida Come faccio A deviarlo Dovrebbe esserci Un comando Dietro a questa parete Azionalo E poi esci Vediamo Come devo fare Il solito Percorso Ok Vado Attenzione Vado Oh Vai Ok Qua ci sono I riflettori Aspetta Così Andiamo Quasi tutte e due Sì Andiamo Ok Perfetto Ah C'è anche La cassaforte Qua A tutti gli uomini Che lavorano Nella segheria Attenzione Rimanezze Costantemente Alletta È stato segnalato Un lato E dobbiamo evitare Che metta le mani Sul nostro equipaggiamento Soprattutto Sul tagliatore Tipo l'astra Soprattutto Quando raggiungeremo Le vecchie perce Sulla montagna Amicita Ma Mi raccomando Continuate a divertir Eh Quanta gente Riesce a guadagnarsi Da vivere Abbattendola Siete tutti fortunati Bravo Hai deviato il laser Attraverso la finestra Ok Eh qua poi c'è la cassaforte Poi dovevo Tornarci Sì Ci torneremo Verso la parete di ghiaccio Devi modificare la sua direzione Con i cristalli Che ho messo nella tua sacca Ho capito Raggiungo il punto In cui il raggio si ferma Piazzo un cristallo E il raggio viene indirizzato Verso una nuova posizione E la guida È nostra Ok Ovviamente Averne uno diretto Era chiedere troppo Attenzione Ah Ok Oddio Stavo guardando Via Che c'è? Aspetta Ok Maledetti No Beccati questo Ecco Spada loro Grazie Alice Ah Alice Alice C'è? Attenzione Ok Allora Devo andare là in alto Ma Non c'è Un Sono dei chiodi Qualcosa No Come arrivo lì? E non da qui E non da qui Ma guardate Hai detto Acque Oh 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 Attenzione Eh Forse da lì Forse da lì No C'è una bottiglia Questo Questo M'ha visto C'è anche un tesoro Ok Qui ci si arrampica Ma Ah no Eh Non si va Fino su Caracca Come Sento Ah Qua c'è una bottiglia Ah Qui Ah Forse c'è una parete di ghiaccio E non ho visto Aspetta Adesso Guardiamo Ok Ah c'è un mammut Ok 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 Intanto Ci ricarichiamo Allora Fa vedere No Non ci sono pareti No Allora Non saprei proprio Ah Ecco L'ho trovato Eh Infatti Non c'era nulla Ai lati Io pensavo di salire ai lati Invece no Ok Vabbè Importante Oh Ah Ok 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 Qui di là Qua c'è una bottiglia 24 24 Ok Va che era il raggio no che giro stiamo facendo fare sto raggio l'ho preso incredibile c'è qua che è? là ah qui ah qui c'è una bottiglia stai attento Sly c'è qualcosa che sta uscendo dalla parete non ho mai visto una creatura così maestosa piena di energia ti voglio di vivere meglio così è tornato nel ghiaccio ah si è vero che si ricongelava allegro amico c'è la guida del taglialegna ok ah eccola lì oh ok oh questo perché è qua è qua ok ne mancano cinque la missione è qui oh agli orsi selvatici della zona sono stati applicati dei localizzatori radio se ne prenderemo un numero sufficiente potremo creare una rete di sensori radio intorno alla casa di Jean Bisson sono favorevole allo spionaggio via radio la prima cosa da fare è entrare nella tana degli orsi e rubare i localizzatori ci penso io dove è la tana o nulla vedo c'è aspetta sento magari giù aspetta è qua la sento la sento eccola ok non ho ben capito dove sia la tana degli orsi ah quella forse aspetta è qua ok ok non c'era nessun segno i localizzatori sono stati posizionati nelle bocche degli orsi dovrai avvicinarti di soppianto e rubarli mentre stanno sbadigliando sembra tranquillo attento al ghiaccio sottile scricchiola se ci passerai sopra sveglierai gli orsi lo terrò presente apri la bocca oh è bello grosso ok è lì e no da qui ok aspettiamo pazientemente allora quello ah ho capito ok ok Ehm, no Ok Vabbè l'ultimo orso Eccolo Sono tu avresti potuto farcela Vieni fuori e ti spiegherò la prossima fase Ah, no, cavolo, dai No, non fammi rifare tutto No, dai Allora, sì, ho ripreso le trasmittenti Però mi ricordo Che abbi problemi anche la prima volta Che lo giocai Quindi io Per evitare quel punto Un po' Un po' bastardo Perché è scomodo Mi è messo male Allora ho fatto il giro Ecco Per creare una rete di sensori radio Devi piazzare i localizzatori In alcuni punti ben precisi Attorno alla base operativa di Jean Bison Mi sembra facile Quando sei in posizione Premi il tasto cerchio Per piazzare un localizzatore Ok Allora uno qua No Ok Ok Qui uno Oh no Mi ha preso Ah, da qua Aspetta No Cosa ha preso? Uno qui Uno qui Aprite le orecchie ragazzi Vi annuncio i risultati del mese scorso La squadra Blu È riuscita a disfoscare 128 acre di molesta Non è male Visto che ha dovuto anche uccidere Tutti i tassi che c'erano Ma la squadra Orom È stata fantastica È riuscita a scomperare 211 acre Avete sentito? 211 acre di progresso Mi vengono quasi le lacrime Gli occhi Quando penso a quanto Terrei un selvaggio Avete colonizzato Continuate così ragazzi Fra non molto Potremo iniziare a costruire Nelle case Sì signore Ok Oh Ho approfittato Qua c'è un tesoro Con la bomba Aspetta Qua c'è Sento Ma sarà lì in alto Sarà Quindi Eh sì Aspetta Ok Sulla sega No Ecco Qua Ma aspetta Già che sono qui Ah A parte che Bisogna andare anche lì Quindi Ok Allora Ok Ah Non l'ha preso Aspetta Ho dovuto Tornare su Ok Eccola lì Mancano Mancano solo Due Ok Manca Lì Ok Ok Bel lavoro I sensori Sono operativi Dopo aver letto La guida del taglialegno Ho appurato che per vincere i giochi Sarà assolutamente necessario Barare Ebbè Così ho elaborato un piano Secondo il quale dovremo procurarci un uovo d'aquila Un'impresa più difficile di quanto si possa pensare Innanzitutto Murray dovrà fare in modo che un orso distrugga gli oleodotti locali Il petrolio dovrebbe incendiarsi e creare delle correnti ascensionali Sly le sfrutterà per raggiungere il nido dell'aquila con il paracaduto E prenderà un uovo E tornerà al rifugio Grazie al lavoro di Murray nel club di combattimento fra modellini Sappiamo che la batteria Aurora Boreale è nascosta in un silo Per usarla come nascondiglio ed entrare furtivamente nel dirigibile di arpeggio Dovremo modificarla Per prima cosa la scaricheremo con dei grappini lanciati dalle imbarcazioni locali Poi faremo tutta irruzione nel faro E interromperemo il flusso di corrente verso di essa Impedendole di ricaricarsi Grazie alle mie competenze di ingegneria elettrica Questo piano ha il 97% delle possibilità di successo Niente male Vabbè No come sempre Ok o vai 1.3 Adesso prendo Nientamento silenzioso Ok così adesso Quando ho niento un nemico Silenziosamente Non faccio rumore dalle spalle spalle Dentro il faro Azione nautica Il vecchio muso grigio Ma Si credo che cercherò Le ultime due bottiglie Dai così poi Apriamo la cassaforte Il vecchio Grazie a tutti.